al mio segnale scatenate le recensioni le quasi ciao a tutti oggi siamo qua io max ciao ciao e max sono qua sono qua io max buonasera o buongiorno dipende pure salve sandino perbacco e cosa abbiamo oggi cosa abbiamo il big robot e chi cazzo è delicatissimi delicatissimi però in mezzo a tutta sta ignoranza tra cui la mia tra l'altro in generale io a luca comics eravamo insieme praticamente in quel momento no noi siamo arrivati dopo in due momenti diversi con la o con la o si può fare un cappello un cappello un cappello innanzitutto volevo ringraziare si chiama un cappello proprio col cuore in mano quale cuore? quello che ho nel pezzo ah il suo per batti il grandissimo Stefano Roda in arte actor 74 che lo conoscono tutti un saluto un saluto ciao ciao un customizzatore bravissimo bravissimo vabbè molto conosciuto in questo ambiente che appunto voi avete avuto la fortuna di visitare lo stand di Italian Gokin Line e oltre a ringraziare Stefano volevo ringraziare anche Roberto Sauro bravo ciao ciao che tutti e lui sono occupati di fare questo progetto e di prendere questo personaggio completamente made in Italy preso da un fumetto completamente in italiano di Alberico Motta e ora voglio passare con il vostro permesso la parola al buon Max Bus che ci spiegherà un po' di così un applauso a Max Bus bravo infatti che vediamo scusate vediamo allora il robot è del mox ah il robot che ho portato io l'ho portato lui che vediamo un robot che non si una moxata non si vede tanto perché in mezzo ha esatto si vuol dire la verità non me l'hanno regalato no vabbè certo però lo facciamo vedere perché sembra quasi che faccia parte della scatola questo è il robot però i due fumetti sono di Max Bus perché chi ha le chicche se non Max Bus eh beh eh beh l'uomo una chicca ci illustri ci illustri esagerati no allora Microboa è un fumetto che è nato a cavallo tra il 1980 e il 1981 fatto da come ha detto Mox Alberico Motta Alberico Motta è un disegnatore che lavorava dalla Bianconi faceva i fumetti di Geppo Soldino e praticamente a un certo punto la sua casa editrice o lui adesso non mi ricordo bene chi decise cosa fare appunto decise di fare un fumetto fantascientifico con a tema un robottone un robottone italiano tutto italiano un italiano anche perché lo cosa? e per farlo naturalmente si ispirò a quello che c'era all'epoca quello ero nel 1980-81 diciamo che Mazinga Z era tirava 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 tantissimo insomma oh quanto tira e poi prendendo un po' di qua e un po' di là infatti questo super robotone praticamente è è componibile ed è magnetico è componibile? nel frattempo chiedo scusa a Max Bus ma sentite ridere perché il buon Passion ha tirato una ginocchiata contro lo spigolo del muro e c'è Mox che sta morendo questa è la situazione aspetta posso fare una sponsor dei video? Cannabier e sai cosa bevi? guarda che bello il frate che bello e felice Cannabier benissimo ho preso lo spigolino l'ha preso l'ha preso la rotulatata il nervetto il nervetto della diretta attenzione eh sì perché qua non si bella quindi abbiamo detto che prendeva spunto da diversi robot che c'erano e ne stava elencando le caratteristiche è magnetico diceva? magnetico ovviamente nel fumetto invece il robot quando poi ce lo spiegherà bene Mox ci dirà le sue caratteristiche e niente praticamente era un diciamo un manga italiano anche perché non era il solito stile di fumetti all'italiano sfogliamo qualche pagina proviamo a vedere è abbastanza come dire eh vediamo dai sul genere manga non è la base di Jet Robot questa beh sembra casa mia ci sono varie cose che riportano a diversi beh lo stile Nagaishikawa qui è rispettato alla grande beh forse è un po' estremizzato se uno ha visto tipo soldino come diceva lui si 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 è un motociclista è il pelvico pelvico molto pelvico se qui sono delle ristampe giusto? si questi che vedete si me lo diceva Stefano sono delle ristampe due libri però le storie sono originali del maestro Alberico Motta è la prima parte del la minaccia di Orcus la minaccia di Orcus e scontro che finisce che finisce ok poi c'era un'altra di saga e poi finisce il nostro furono 12 numeri a 12 i volumi beh vediamo che anche il casco ricorda qualcuno di noto cioè ah il casco di noto beh beh ricorda molto cioè venga Power Vica anche lei la sua Actarus si però anche qualcosa di del pilota del grande Mazinga che mi sfugge il nome scusate Tetsuya Tsurugi troppo sciroppo di menta si secondo me si secondo me si bene bene poi cosa vedo pugni sparanti questo che si lancia nella cabina abbiamo perso Mox io ve lo dico non so se il suo canale sopravviverà rido perché c'è rido per lei c'è Passion che mi sto facendo ammazzare delle risate è rotula direi si re della rotula ma che armi c'ha? questo scusate che armi c'ha? mi aveva varie armi come praticamente lui c'ha fatto un manzo che ci dà il dito ah un pugno d'acciaio che riguarda molto un pugno all'altro però questo è plagio santo cielo non è che ha preso ispirazione pugno d'acciaio non è che ci sia tanto da inventare ah no 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 un pilder ho visto un pilder o magnetici sentivo che il maestro dal dito spara dal dito spara questo fumetto perché perché all'epoca si ti so c'è stata fortunatamente dico io l'invasione di questi ultracorpi di queste storie di robot giapponesi manga giapponesi gig mazinga così e allora per rilanciare il fumetto italiano il maestro motta ha voluto ideare questo personaggio e ovviamente ispirandosi ai vari robot giapponesi infatti si vede pure si vede secondo lei si vede e devo dire la verità adesso parlando del robot del chogokin le sue fattezze a me esteticamente non mi dispiace per niente è anche abbastanza originale ovviamente richiama certe cose dei vari goldreg mazinga sento odore di domanda una domanda questo lo possiamo definire un chogokin ma ce lo dica lei metallo metallo bene grazie giusto giusto la bilancia la bilancia forse qualche giù non lo so ah perché è tutta plastica esterna la corazza è plastica devo provare qui i denti dovrebbe essere bisognerà farlo sentire alle labbra del sì ho i denti a seconda vada passion che fami da del tu ma non è congiuntivo eh beh attenzione che due leccate e passa la paura due leccate che poi leccate lui proprio moccica ce l'avete dell'alcol che usa anche la lingua e già che c'è un po' di sale ci limona lei dica dica quindi quindi plastica ahia allora non è non è non è non è non è non è un action figure un action figure l'odora anche no non è e quando mi parte il telefono scusate ma quindi colore chiaro gusto pulito qua c'è un calamitato calamitato ah 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 cos'è tutto calamitato si esattamente ah che cos'è allora ma la testa se la stacca si stacca però bisogna chiedere a Mox Mox non si stacca la testa non ci ho neanche provato ma non si stacca beh si si è sempre meglio chiedere prima non si stacca la testa vediamo che il buon Mox ha lasciato anche un po' di spugnetta qua per evitare questi scolori davvero feticismi esatto che faccia attrito sul colore però sembra più vabbè quindi sembrerebbe più un action figure proprio lo assaggia lei eh lei è un degustatore di robot è così che si fa è certo come fa a capire se è metato è fesso io che glielo chiedo non esagerare che ti rovini la cena in contatto poi io non so no no perché la temperatura corporea varia invece la dentata non tradisce ah si ci vorrebbe uno donto tecnico in questi casi avete mai provato il metallo sul dente lo senti subito ma allora io provo a chiedere a Mox se vuole assaggiare il suo robot adesso vediamo allora girelliamo con un girello ah girello con lo sponsor del canale vedete ma eh si vede si vede ma se no di Max mi metto scusate iniziamoci l'anno io farei vedere facciamo una cosa che non mi è piaciuta che me l'ha fatta notare il boombox si si è una cosa che non mi è piaciuta il braccio il braccio inquadriamolo per nino qua inquadriamo lo mette a favore di camera mi ricordi King Arts quando li tolivi l'armatura via la mano via la mano ecco c'è quello del petto con questo per nino si si questa è una cosa che vorrei chiedere direttamente a se se lo ricordi vabbè non ora si vede si vede questa scelta la potevano fare meglio eh tutto è migliorabile non rovina il modello perché poi lo metti ricordiamoci con la produzione italiana giusto completamente italiana quindi rendiamo rendiamo onore ai costruttori agli ideatori e quant'altro ma come l'ha prodotto è vital a mani nude non si nota più poi scusate queste cose non le so perché non ho chiesto dei particolari ma ho detto validozione completamente italiana faccio vedere faccio vedere che posandolo non si nota più in qualsiasi pose che gli dai non si nota più anzi come snodo è anche bello quindi ci vuole una posa dinamica si vede la stocca fisso non le stocca fisso che fa il power di solito eccola là beve per dimenticare però è il pensario ma posarlo bene questo verso beh a mano libera no quello è asso è posa man ma power lo sa che deve posare sempre lui perché lui è molto bravo ah power e chi sono i nemici qui è molto interessante stato power è una bella domanda volevo far vedere però anche dietro si la pulizia del modello non c'è una una vita a vista bello questa cosa non è notato nessuno ma perché è un insomma è un insomma è un insomma è un insomma è incollato non è notato nessuno hai visto anche perché lei è l'unico che lo sta palpando quindi non ti devi capire di palparlo per vedere i toni ma si eh no se lo gira sono dei tappini no 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 è lì è lisce è liscio sembra sembra incollato l'altra cosa che non mi no guarda ti sto leggendo il pensiero se non ti piace non dirlo dite ah è vero che non ti piace quella roba no ah di ma scherzi no perché sembrano che manchi qualcosa che eh ma se il fumetto era così ho capito ma anche il fumetto potremmo fanno diverso no ma lui ha spiegato prima mentre tu non ce ne non sono c'erano ma dormivo due cerchietti sono due buchi giusto due buchi da dove escono due raggi ah anche la Venusia no la Venusia la Venus Venus Elsa afrodite A il seno a missile le tette protonite a razzo con la R ok rimaneva così eh si 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 attenzione ma lo metta sul girello solo girellare un po' che stiamo perdendo l'epoca vada laia ci lascia col pezzo forte se cade o se lo prende a volo a metti una posa che sta dritto è la posa della torre di Pisa volendo no 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 sbiraci un po' indietro un applauso al posatore ma si ma se togliamo dietro anche la roba si vede meglio vada tanto la la scatola riusciamo a vederla non li leggete da qua no però li abbiamo sfogliati a me di questo robot no prima mi ha dato un occhio mi piace no di cosa allora la fattura di questo robot mi piace perché è bello pulito colorato bene eh potevano fare delle scelte diverse magari su i giunti delle dei gomiti e delle ginocchia però forse era quello che potevano fare per renderlo più simile possibile al fumetto però nel complesso a me piace è bello pulito è fatto bene poi pensando che è un made in italy mi fa anche piacere dico la mia poi la sceliati di parlare vai 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 io se lo dovessero beh lo prenderei sì ma si vede ma l'ha già fatto no vabbè io so io so che i preorder sono tutti finiti ecco per quello diciamo anche perché loro stanno aspettando di avere delle risposte per una grande produzione ma non solita cinesata andare in cina vogliono fare una produzione a livello proprio italiana proprio tutto made in italy e mi diceva Stefano che stanno avendo delle difficoltà per il momento beh immagino i costi eh beh comunque se non posso fare nomi però diceva Stefano ma parlato ma Stefano ha parlato poi Massimo lo bippiamo nomi grossi nomi grossi quali per gli avvocati io non so niente noi ci dissociamo completamente io mi dissocio non lo so non lo so e io sono passato qua per una birra e passiamo al giro di commenti Max io voglio capire una cosa quindi questo è tutto magnetico perché non è magnetico nel fumetto non è magnetico nel fumetto è tutto però qua non ho fatto magnetico sono vari pezzi che si uniscono ok benissimo quindi si assembla si aggancia e lui è il pilota guida la testa mi sembra la testa è l'unico pezzo unico no esatto ma dopo peggiamola e i cattivi chi sono perché tu mi hai detto che ci sono due stagioni due serie no no praticamente un unico nemico che nella prima nella prima parte del fumetto attacca la terna nel classico modo che conosciamo che si manda dei robotoni e dopo li distrugge per bacco poi ci sono vari sotto trame come sempre come succede di solito volume nella seconda parte invece il big robot si sposta nello spazio con un'astronave non mi ricordo bene ma credo cercare nuove forme di vita per allacciare relazioni con altre civiltà esatto con altre civiltà e qua entrano in gioco i robot dicevi si quei due robot che sono due robot che lo accompagnano in questo viaggio nello spazio sono amici il protagonista si chiama Antares la nota del big robot beh un richiamo un richiamino al mio amantissimo Jig Antares può essere anche il colpo segreto di Scorpio Milo di Scorpio oppure il robot il robot piccolo di Daltanius è vero bravo il cavallo di Jig ce ne è di Antares è vero è vero quanti Antares ci sono eh ma perché Antares è il nome di una stella ragazzi quindi sono tipo serio piccola stella senza ma perché dioma ma lei lasci fare scusi ma Antares è la stella più di più di la mia è l'azione dello Scorpio finché vedrai lei percola Antares perbacco lei perché guida un gatto e comincia ma lei ok e i cattivi chi sono quindi il cattivo è un'entità chiamata Orcus 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 con Orcus Ius ma si può dire su YouTube parecchia kappa Orcus demonius per non dire orcus 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 diciamo che è un'entità per non dire altro ma vada che cerca di distruggere un'entità invece del bene che si è rifugiata sulla terra del bene lei capisce sempre qualcosa di diverso lei mi va fuori contesto anche pesce non che ho capito bene beh si è rifugiata sulla terra con la perché ne parla il femminile perché è un'entità è un'entità è un'entità ma sotto una forma di una bambina che si chiama di femminuccia di femminuccia alia 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 ma che memoria che ha signor Bus questo è un fumetto che ho amato tantissimo che era proprio uscito quindi Bus le posso fare una domanda e beh certo l'angolo della domanda è colpa mia è colpa mia scusi faccia la domanda la faccio subito ma lei questo modello lo ha preso o ha un vintage di un modello esiste anche giallo se non sbaglio si però un pezzo unico che non in vendita ha fatto solo un pezzo come io sa non c'è assolutamente nulla quindi questo modello non ce l'ha lei non ce l'ha però hai fumetti ma ti stuzzica l'appetito non è i fumetti che li ho distrutti quando ero bambino ah quindi ho recuperato questi due libri che sono stati fatti nel 2000 quindi lei lo conosceva ancora prima che questo venisse stampato questa cosa prima che venisse fatto al robot lei conosceva già il robot io prima ho conosciuto lei avanti lei potremmo definire il pilota del Baldios come si chiama il Arin ma 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 come Arin quello del Dunbar cosa c'è Dunbar vabbè no che lui è veniva da più è la birra scelto più da Capitano Dunn anzi ancora Dottor Galaxy Mari perché Mari veniva dal pianeta Capitano Dunn è quello di no ho detto sbagliato no il Tenente Dunn è Forrest Gamba è quello di Capitano non di Tenente ragazzi qua non ne usciamo il Tenente Dunn il Tenente Dunn le gambe nuove tenente Dunn le gambe nuove e Corri Forrest bene va bene però non ci hai detto se ti interessa o no eh no no si fate la domanda mi sarebbe averlo fondamentalmente la domanda era questa se ne dovessero distampare lo prenderesti si chiacchiappa chiacchiappa tra le altre cose di questo modello si hanno fatto adesso devo andare a prendere la foto hanno fatto tre colorazioni ai signori miei parlaci di queste tre colorazioni e motivo accedete e poi vi faccio vedere anche cosa c'è nella confezione un'altra domanda non vola o vola questo vola va nello spazio però non ha le ali non ha le ali vola grazie ai piedi come potete vedere sono dei razziti ugelli mi sembra di quei piedi di averli avanti mi sembra di averli già visti quei piedi quelle gambe li e questi sono ancora più estremizzati che sono un po' a forma di piedi più gentili sono villici villani secondo me questa è la prima volta che facciamo girare un modello così tanto senza che nessuno lo metti la mano davanti è vero è vero le mani pelose posso posso vado mi dica se fare un po' di camera abbiamo la versione bianca e nera della juventus no penso che vuole richiamare magari il fumetto il fumetto ah ok giusto e poi c'è la metallic ok con le parti grigie che cambiano solo le parti che sono grigie si poi è molto bella secondo me che richiama un po' i Jumbo si la colorazione bella ah beh chiaro molto carina un omaggio al Jumbo ho visto un brillone questa è la più bella è la più bella questa è la più bella ho visto lo scicchio negli occhi di Max Boos mi piace di più questa no questa è più questa la anime anime anche se l'anime non esiste ma le hanno fatte o devono farle no le avevano fatte e avevano fatto anche i preorder di queste e sono finiti che costavano allora il prezzo e il costo di questo qui quando l'hai preso tu? l'ho preso io che ho avuto la fortuna che un tizio che aveva fatto il preorder ha rifiutato il preorder e allora Stefano mi ha contato e mi ha detto guarda sei stato fortunato è rimasto disponibile un big robot lo vuoi ancora? tra l'altro abbiamo il nome di quello che ha rifiutato il preorder è Passion lo sanno un po' tutti nell'ambiente e quindi l'ha vinto lei Mox io lo dovevi fare non l'ho mai quasi mai rifiutato un preorder anzi anche pentendomi mi hanno sempre saldato così pentendomi no di certo ho avuto il segnato preso però ormai l'ho fatto ormai sono fortunato perché mi aveva promesso Stefano che se doveva se saltava un preorder mi avrebbe contattato per dirmi oh Mox se vuoi vada vada ho a disposizione un big robot si ma cash cash allora spedito 207 euro ok 207 ragazzi 207 e tenete conto che le altre colorazioni sono 30 euro in più che non è così no normalmente 207 secondo me posso dire la verità guardando le altre colorazioni sapete che la colorazione versione un po' jumbo è veramente bella è caratteristica è carina allora io ho visto il jumbo di godriga gli stessi identici colori anche gli ugelli qua davanti il primo è rosso io prenderei io prenderei una foto io prenderei questa anche ha solamente questo avvicinano un po' Mox si vede si vede il godre che ha i due ecco io prenderei la versione originale si è la più bella questa è molto bella mi piace anche l'adesivo si 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 richiama un po' il jumbo è un stylus ma se uno colleziona robottoni questo è in scala con gli altri goking e ora lo scopriremo solo vivendo bene ci faccia vedere comunque la colorazione bianca e nero era proprio per come si spese un barosoto tieni premuto un tag per tre secondi un tag quella bianca e nero si quella bianca e nero si perché il fumetto originariamente era bianca e nero un po' a colori e un po' a bianca l'edizione che hanno fatto nuova questa qua l'ha fatta completamente in bianca e nero ma in realtà quella originale del 1980 era un po' a colori e un po' in bianca e nero come andava allora come andava allora intanto volevo far vedere la scatola che è molto basic molto basica la scatola che ti arrivano le collezioni dell'edicola allora ci sono degli adesivi applicati vabbè i track and go in line limited garage box 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 mox garage mox molto carina è minimal ma è carina dai ho visto scatole peggiori e dietro cosa c'è è dietro ah il logo poi dentro cosa trovo abbassa un po' le mani abbiamo ragazzi abbiamo il polistriolo no è arrivato tra l'altro ti arriva il pacco voi immaginate che questo bel ticolino a me è arrivato un pacco sarà stato 50x50 una roba super imballato no una cura pazzesca grazie Stefano e poi cosa troviamo troviamo un allusivo che male non fa troviamo il biglietto della visita di di Aferus 74 che ha realizzato il robot bene e poi troviamo abbiamo avuto un piccolo problemino con la solita scheda piena tanto abbiamo bevuto dell'altro succo di mele e quindi nella scatola troviamo anche oltre all'adesivo non lo volevo dire all'adesivo e la e il bigliettino di Aferus 64 che portiamo abbiamo questo puscolino carino così non vi sto leggendo cosa c'è scritto che promuove i due volumi che prima abbiamo visto di Max Mus e c'è la scritta in giapponese che c'è alla fine di ogni puntata che continua speriamo che continui anche perché mi farebbe piacere un progetto italiano sarebbe figo è roba di 40 anni facciamo vedere facciamo la comparazione esatto la domanda che tu ci chiedi si 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 chiediamo abbiamo il primo sfidante avete rovinato la mia posa no la perfezionata io ho no no è Max Bus l'hai rovinata chi è questo? questo cos'è? non lo so io non lo conosco questo qui è il grande Mazinga DC SP veramente lo conosciamo se no se no oppure abbiamo un altro che ha una cosa bruttissima sulle spalle io sono per lo spacer la simia la simia ce l'abbiamo cosa sarà mai solo per lo spacer sono per lo spacer Grandizer Grandizer è alto sono tutti due più bassi di lui posso dire la verità fanno la loro porca figura tutti e tre insieme lei gradisce si molto l'unica pecca i giunti Stefano bravo bravissimo però questo è proprio sto prendendo il pelo dell'uovo i giunti i giunti che non mi piacciono sulle braccia li puoi nascondere esatto sulle braccia li nascondi vedete no se lo metti così li vedi vedi i buongiori c'è lo spazio c'è lo spazio sto facendo un errore io magari c'è da schiacciarli dentro ma non credo però le braccia li puoi anche mascherare mascherare facilmente per qualsiasi cosa vi dai pugni calamitati carino bene è un rimando al fumetto eh sì tac tac comunque insieme non siete d'accordo com'è fa la sua porca figura no no sta bene insieme di fianco due robotazzi giapponesi è stata scelta una scala per inserire una collezione guardando la colorazione vanno a richiamare un po' vabbè a parte il giallo comunque vediamo che le gambe i piedi sono praticamente un richiamo a Valdrick eh beh bene 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 quindi soddisfatto dell'acquisto io sono soddisfatto anche perché mi ha fatto piacere contribuire alla causa italiana completamente Italia italiana ma tu lo conoscevi il fumetto? no purtroppo no quindi ti è piaciuto così sulla fiducia sulla fiducia mi è piaciuto molto non è piacere ah no ultimamente i progetti uniamo le falangi bene un ringraziamento ringraziamo 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 tutti ringraziamo tutti e posso fare un saluto che non ho fatto su un canale? vada voglio salutare la simpaticissima Lady Gandalf oh un saluto un mito vai avanti così che i tuoi video sono fantastici un saluto a Lady Gandalf molto bravo fa anche editing l'inglese almeno quello che si è grandissimo fare il video penso che probabilmente siamo solo lui e lui poi ha recensito anche Lady Mask ragazzi si 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 no no è di gamba la ragazza no no sono molto curati i video poi soprattutto c'è un nickname azzeccatissimo c'è un nickname fantastico azzeccatissimo e su questa chiudiamo si ciao a tutti ma non ringraziamo lo sponsor ah lo sponsor ti è sempre la vita i tuoi sponsor i tuoi sponsor anche la la bira poretti ringraziamo lo sponsor l'angelo poretti da 40 anni con voi nel video sono stati inseriti prodotti per fini commerciali da 40 anni con voi sono anche stati bevuti secondo me si mi raccomando bevete con moderazione e non mettete ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 io io consegno ufficialmente la scatola con tutti i mit cot che vi hai venduto gentilmente quindi eccola è un po' leggerina è la scatola è piena mi taglio senti ma secondo me vabbè comunque dopo li vedremo dopo facciamo un unboxing diretta però mi sembra ma no sono loro sono loro la scatola è chiamata lugia quindi vai tranquillo mi fido mi fido mi fido mi fido il cieca bene vabbè ciao ciao buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione straordinaria mox logo d'acciaio infamato dai suoi amici max passion e max power dicendo la scatola dei mit cot è leggerina è tutta una bufola signori quella scatola non è la scatola che ha dato mox logo d'acciaio a max power infam eeeh